vedete che c'è tutta la ruggine e andrò a rimuovere innanzitutto di ruggine che andremo a rimuovere a parte la sporcizia che andrò a rimuovere a rimuovere anche qui la parte grossolana di ruggine adesso andrò a rimuoverla manualmente per rimuovere che è un po arrugginita andrò a rimuovere la vernice anche da qui e a rimuovere tutte le incrostazioni poi vado a rimuovere la parte prima grossolana e andrò a rimuovere la ruggine anche dall'altra parte ho rimosso tutta la ruggine dalla parte superiore come potete vedere è venuta veramente bene